Impossibito in verticale, ha trovato un gran gol e da lì è spienata Nel corso di questi primi 45 minuti di gioco nessuna delle due squadre è riuscita a prendere il largo 1-0 risultato finora Oggi nella sua totalità ha deciso di stringersi intorno alla squadra per una partita che si sapeva